Le immagini di Danilo Squalici raccontano di un'avventura senza precedenti, quella che da oggi si appresta a vivere Andrea Barbera, velista di Agrigento con Alicos Project, la prima spedizione in solitaria su una tavola a suppo lungo il fiume Platani, 65 km dai Monti Sicani per arrivare alla foce, tra Ribera e Cattolica e Raclea. Ne nascerà un docufilm, il cui obiettivo sarà quello di sensibilizzare le nuove generazioni sugli sport all'aperto, l'importanza della natura e della tutela ambientale. Andrea Barbera, supportato da Marevivo, documenterà lo stato del fiume facendo dei prelievi d'acqua per le analisi da parte di Arpa Sicilia, utili a rilevare tra l'altro la presenza di microplastiche. Oltre a fornire dati scientifici, questa impresa coinvolgerà le comunità locali affinché possano comprendere l'importanza delle sfide ambientali legate alla presenza del fiume Platani, quinto fiume in Sicilia. In gulo, in gulo, in gulo, in gulo alla balena. Ciao! Ciao!